Il 9 maggio la Toscana celebrerà la festa dell'Europa. La proposta deliberata dall'ufficio di presidenza approvata dall'Aula prevede distanziare 15.000 euro per l'annualità 2021 e 50.000 euro annui per il BN 2022-2023. La ricorrenza con varie iniziative si rivolgerà prima di tutto al mondo della scuola e ai giovani con l'obiettivo di favorire una diffusione della cultura europea. Il Consiglio regionale ha completato la dotazione di questa proposta di legge che è nata in Commissione Europa su uno spunto del Consigliere Stella sul quale abbiamo lavorato insieme a commissari di maggioranza e opposizione in collaborazione con il Presidente del Consiglio Mazzeo e gli uffici. Con il voto di quest'ultima seduta arriva praticamente il completamento anche di questa proposta di legge che ha un obiettivo far sì che anche in Toscana si possa celebrare, ricordare e soprattutto vivere la festa dell'Europa che cade il 9 di maggio con iniziative, eventi e soprattutto occasioni di riflessione che saranno portate avanti d'intesa con gli enti del territorio e ci auspichiamo anche con il mondo della scuola. Permettetemi di sottolineare l'aspetto che spesso e volentieri la nostra comunità vede distante l'Europa. Non abbiamo tante conoscenze di quelli che sono i diritti e i doveri che noi abbiamo nei confronti dell'Europa ma neanche quelli che l'Europa ha nei nostri confronti. Per cui credo che entrare in merito in una giornata di festa come conoscenza, come vicinanza, come far sapere a tutti i nostri concittadini quello che dovrà essere reciproco rispetto nel mondo del lavoro, degli investimenti, di quello che sarà poi il Recovery Fund, la Next Generation EU che verranno poi distribuite. Io credo che sia giusto che siano stati messi dei fondi a disposizione proprio per questo. Ma non mi fermerei soltanto lì perché all'interno della Commissione ci sono state delle proposte condivisibili come ad esempio portare nelle biblioteche la conoscenza dell'Europa, portare nelle scuole la conoscenza dell'Europa perché credo che sia fondamentale che le generazioni a venire, visto e considerato quello che sta succedendo in questo momento con un impegno economico dell'Europa nei nostri confronti ma anche un impegno nostro nei confronti dell'Europa, anche loro debbano essere messi a conoscenza. Con la finalità di investire nel capitale umano, la Fondazione Alessia Vallini fornirà attività formative e gratuite riservate ai consiglieri e amministratori di enti locali e regioni di età compresa fra i 18 e i 40 anni e prioritariamente orientate a promuovere lo studio e la conoscenza delle materie afferenti all'attività politica amministrativa con particolare riferimento alle discipline della scienza politica e dell'amministrazione, alle politiche di genere, del diritto, dell'economia, della contabilità pubblica, della storia e della sociologia. Crediamo che la formazione politica sia un dovere da parte di chi in questo momento ha avuto la fortuna, l'opportunità o anche l'intuizione o in alcuni casi anche il destino favorevole di poter fare politica. È un privilegio, in alcuni casi è un'opportunità, in altri è un lavoro, in altri deve essere un'opportunità. Cioè noi dobbiamo consentire a tutti di poter giocare la propria opportunità. Quindi è un grande assunzione di responsabilità che coinvolge il Consiglio regionale, coinvolge l'UPI e i comuni, quindi province, comuni e regioni insieme per dare opportunità ai giovani di diventare magari un domani i loro stessi consiglieri regionali. Come Forza Italia fin dall'istituzione di questa legge che prevede la scuola di formazione politica abbiamo detto di dare 100.000 euro in un momento difficile come questo per imprese e per famiglie ad una fondazione che deve formare i politici è estremamente assurdo. Per noi la formazione politica è quella che fai sul campo, fai il consigliere di quartiere, parli con le persone, fai il consigliere comunale, stai a giro, produci atti, stai al fianco di chi l'attività politica la fa ogni giorno. Questa è la formazione politica, non occorre per noi fare una fondazione, mettere 100.000 euro, magari assumere un direttore generale, un revisore dei conti, alcuni dipendenti per fare formazione politica. La formazione politica la si fa sul campo. Fuori contesto, in questo momento storico e soprattutto non opportuna, le scuole di politica si fanno all'interno delle comunità, un tempo si facevano nell'associazionismo, tutt'oggi si fanno ancora all'interno dei gruppi politici e noi stessi facciamo questo tipo di scuola ma non certo a carico della collettività e questo secondo me è fondamentale, il fatto che sia indirizzata poi soltanto ai giovani lo limita ulteriormente, però secondo me è proprio sbagliato concettualmente e fuori tempo data la contingenza, la situazione di emergenza in cui stiamo vivendo. Piace il principio per il quale un giovane che si avvicina alla politica e che si trova a amministrare abbia una guida, abbia una formazione, abbia un'istruzione. Ci sono degli aspetti che invece convincono un po' meno, ecco perché ancora non è arrivata in porto la nascita della scuola. Tra questi ci sono sicuramente l'assunzione del personale. vogliamo capire se questa scuola ha dei costi o no perché oggi è impensabile dover ricadere sulle spalle dei cittadini per formare gli amministratori che dovrebbero amministrare i cittadini. Un altro aspetto che ci convince poco è il mancato coinvolgimento per esempio delle università. In Toscana abbiamo tre università di eccellenza che a nostro modo di vedere potrebbero contribuire alla formazione. Quindi speriamo di poter arrivare presto a un soggetto che non ha costi ma che ha dei benefici per i cittadini. Noi abbiamo votato contro la legge che istituiva la scuola di formazione. Ora si tratta di votare un atto di natura precipuamente tecnica che è lo statuto per il quale però abbiamo tutta una serie di perplessità. Abbiamo richiesto chiarimenti agli uffici e stiamo aspettando per poter formulare in modo più compiuto il nostro voto. Secondo me abbiamo assistito a un'improvvisazione che non fa bene alla politica perché troppo spesso gli strafalcioni che noi sentiamo alle televisioni, leggiamo sui giornali non sono frutto di una no scolarizzazione di chi va lì, di chi va a governare il paese, di chi va nei consigli regionali, nei consigli comunali piuttosto che... Io sono convinta che bisogna avere una cultura di base, la conoscenza da dove veniamo per sapere dove dobbiamo andare. Troppo spesso arrivano direttamente in Parlamento senza nessuna formazione. Io vi garantisco che essendo stata partita da un consiglio di circoscrizione della mia città hai la percezione, cioè arrivi più in alto non essendo in una bolla, no? Non conosci il mondo, non conosci non solo come funziona un procedimento amministrativo piuttosto che legislativo, ma sei lontano dai problemi della gente. Cioè la formazione, la scuola di politica, oltre che creare una cultura politica che significa capire la genesi di dove siamo, dove siamo arrivati, cosa è successo nel nostro paese dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè non è tutto improvvisato. Quindi non solo una cultura scolastica, ma una cultura politica per leggere le nozioni che abbiamo appreso a scuola sotto una luce diversa, che è una luce della gestione della polis, che è un'altra cosa, quindi sono contenta che la Regione abbia investito nel creare questa scuola. Approvata maggioranza il bilancio preventivo economico 2020 per il Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Un bilancio tra l'altro abbastanza strampalato che fa acqua da tante parti, che arriva in grave ritardo. Mi dispiace molto che la maggioranza abbia votato contro perché si fa con una mano, ci si straccia le veste per le attività che sono in crisi, si fa appello al Governo e ad altri enti che intervengono. Poi quando può essere la Regione a intervenire in maniera diretta, diminuendo per esempio canoni di affitto e di concessione, invece si fa come Ponzo Pilato, si ci se ne lava le mani e non si interviene. Nel Parco ci sono tantissime attività economiche che contribuiscono a far conoscere il Parco, che contribuiscono alla ricchezza del Parco, che contribuiscono al mantenimento del Parco. vanno aiutate come riducendogli gli affitti a fronte di un calo drastico di visitatori e clienti. La maggioranza della Regione Toscana oggi ha detto no, noi continueremo questa battaglia. Quel Parco non ha capacità di organizzare il proprio lavoro, non ha capacità nemmeno di poter avanzare delle proposte e portarle a termine in maniera organica e omogenea, perché è vero che si può lavorare in dodicesimi. Capiamo che quel Parco è stato commissariato proprio per problemi che ha avuto in passato con i conti, ma così non riusciremo mai a ripartire realmente su un pezzo di territorio che è fondamentale e importante. E quindi pensiamo che in questa legislatura si possa cercare di lavorare, partendo proprio dalla Commissione, cercando di capire cosa i due assessori hanno intenzione di fare per quel territorio. Per noi è importante, ricordo che il lago ha una valenza non solo ambientale, ma anche storica, visto che è il lago di Giacomo Puccini e che per quel territorio potrebbe equivalere ad avere una risorsa enorme in temi di visibilità, ma anche di fruibilità. Ricordiamolo che nel 2014 il Parco è stato commissariato, da quell'anno è iniziato un lavoro importante di revisione delle spese, motivo per il quale non è stato ancora approvato il bilancio 2019, nonostante l'approvazione del pluriannale 2022, perché la Regione aveva chiesto di verificare la valutazione, per esempio, di alcuni aspetti molto importanti, quello del personale che aveva causato all'epoca il commissariamento dell'ente. Il Direttore e il Presidente ci hanno messo in evidenza un gran lavoro che è stato fatto per la ricostruzione di alcuni passaggi che mancavano, la messa in sicurezza di alcuni aspetti che per noi sono quelli fondamentali, cioè capire come e in quali modi, con quali risorse, si prova a rilanciare tutto quel complesso che per noi è un punto di riferimento importante dal punto di vista non solo della manutenzione della biodiversità, di tutte le vocazioni che il parco ha, ma anche dal punto di vista attrattivo turistico. Abbiamo visto come in questi ultimi due anni si è lavorato molto per provare a recuperare del gap che c'era stato anche dal punto di vista degli investimenti. Abbiamo condiviso anche con il Direttore e con il Presidente che su questo rilancio bisogna che la Regione, attraverso i suoi componenti nei consigli, lavori, attraverso un sistema anche di vigilanza che il Consiglio regionale farà in quei territori e in quelle azioni. Passato il Covid accoglieremo con grande soddisfazione l'invito del Presidente a visitare quei luoghi e a capire come supportare e aiutare. Usciti dalla pandemia proveremo a far tornare il parco a quello ruolo centrale di sviluppo, non solo della biodiversità. Mi piace molto avere delle opportunità per oltrepassare i miei limiti, per trovare sempre dei nuovi obiettivi da raggiungere, per superare me stesso. Ho trovato nello sport della vela queste grandi opportunità, e realizzare il Vande Globe, l'Everest della vela e il giro del mondo in solitario, senza scalo, senza assistenza, è stata una grande opportunità e una grande soddisfazione. Il Consiglio regionale ha consegnato una targa al velista e navigatore oceanico toscano Giancarlo Pedote che il 28 gennaio scorso ha tagliato il traguardo della nona edizione del Vande Globe portando a termine il giro del mondo in solitaria, senza scalo. Io mi sono appassionato nel golfo di Follonica, dove ho iniziato a fare i primi bordi sul windsurf, poi la mia passione è proseguita verso delle imbarcazioni di taglia più grande, ho cominciato ad essere un regatante su barche armatoriali, e poi dalle barche armatoriali mi sono spostato su un progetto personale, ho avuto la grande fortuna di incontrare il mio sponsor Prismian Group che mi segue da 14 anni e con loro siamo arrivati assieme al Vande Globe. Gli studi in filosofia a Firenze, autore di diversi libri, Pedote da 12 anni vive in Francia, ma non ho reciso i legami con la Toscana, sottolinea. Un grande onore essere qui nella vostra sede, poiché chiaramente ho mantenuto con la Toscana, con la mia terra e con la città di Firenze un grande legame. Firenze mi ha ispirato la cura del dettaglio e sono fiero di portarla dentro di me. Assieme al Presidente del Consiglio diversi consiglieri regionali nel giorno della Consiglio del Riconoscimento. Noi vogliamo premiare un atleta, un navigatore, un campione che ha portato in alto i colori dell'Italia e io dico anche della nostra Toscana, un risultato incredibile, non era mai successo a nessun italiano di riuscire a piazzarsi tra i primi dieci, un risultato che ci rende orgogliosi. Come Consiglio regionale noi in questi mesi, da quando sono diventato Presidente, vogliamo raccontare le storie migliori di nostri concittadini. Il simbolo della nostra regione, lo vedete bene lì, è il Pegasolato. Il Pegasolato è fatto e rappresenta benissimo quello che noi siamo. Da un lato le sue zampe radicate nella storia, nei valori, nella tradizione, nella bellezza della nostra Toscana e anche un po' nella fantasia dei Toscani. E dall'altro le ali che ci portano verso il futuro, un futuro fatto di speranza, un futuro fatto di opportunità e anche un futuro migliore. Il messaggio che Giancarlo ci ha mandato è quello di crederci sempre, di non mollare mai. Grazie a tutti.